Ciao a tutti criticone e criticone, eccomi qua nel famoso libro dove vi mostro il dizionario dei santi di cui vi ho ampiamente parlato in questi ultimi due giorni, per chi ancora non lo sapesse è stato un affarone che sono riuscito a comprare in una fiera a un prezzo veramente veramente straccio e vanno alle ciance, adesso ve lo mostro, uno, due, tre si vede, si come vedete c'è ancora la plastica e adesso lo andremo ad aprire a proposito, vedete sono tre volumi divisi in ordine alfabetico primo va dalla A alla F, quindi vabbè, ci saranno tutti i santi che iniziano con i nomi che vanno dalla A alla F G, poi quelli della G alla M e poi quelli della N alla Z allora, esternamente sembrava tutto bene come vedete è pure come vedete è pure me ne è pure rotto ok, si, sono un pochettino in questo punto qui però, vabbè, per il prezzo che l'ho pagato ne vale più che la pena allora proviamo a tirarne fuori uno, dei tre un attimo, oddio, sembrano quelle scene tipo di lascia raddoppia ok, un attimo vabbè, non ve lo taglio questo pezzo solo perché cioè, fa talmente ridere cavoli non si devo entrare nelle gaffe di youtube praticamente ah, forse ce l'ho fatta ce l'ho finalmente fatta, ok come vedete qui, grande libro dei santi vedete qui Ok. Per esempio, prendiamo, non so, un santo a caso dalla ala F, Santa Caterina da Siena. Ecco qui. Caterina da Siena. Bene, ragazzi. Con questo finisce il mio video. Non mi è uscito benissimo per via anche dell'illuminazione. E spero che comunque il volume vi sia piaciuto. A me è piaciuto tanto. Adesso inoltre metterò a leggere qualcosa. Vi auguro a tutti una buonanotte. Baccioni da Critiche Costruttive.